Mi è sempre piaciuta la figura di Sherlock Holmes, proprio dell'individuo super che riesce grazie solamente alla sua logica, alla sua capacità deduttiva a risolvere qualunque tipo di enigma e di mistero. Non ho avuto fasi di tutto, devo dire, nel rendermi conto che era una figura di finzione e non di realtà, però insomma invece crescere e studiare come funziona realmente la nostra mente, quindi quali sono i suoi limiti, limiti che nella finzione tu puoi eliminare, puoi rendere del tutto ininfluenti per una figura come Holmes, ma che per le persone reali che ci sono per quanti intelligenti siano. Quindi nella realtà, come spesso racconto nei miei incontri e conferenze, a tutti piacerebbe essere Sherlock Holmes, ma in realtà siamo tutti quanti dottor Watson, perché sono dei filtri che abbiamo sviluppato nel corso dell'evoluzione per poter vivere meglio, perché altrimenti il sovraccarico di informazioni sarebbe tale da mandarci al manicomio.